Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi vi faccio vedere cosa potrebbe succedervi se vi unite al nostro gruppo gli automobilisti grande si infila grande si infila se mi baci il culo mi fai morire che cazzo mi baci il culo non ti allargare è la macchina che si allarga non sono io perché mi freni perché spiegamelo spiegamelo perché è evidente che mi sta frenando per far passare fabrizio è un bastardo maletti uno stratega di merda e i vecchi contrisioni e scorretto e stratega di merda è scorretto si si per una volta che ci siamo agganciati figa guardalo guarda che bastardo attenzione il miceli arrivo di gran caliera ma deve frenare nooo c'è righi hai visto che manovra abbiamo fatto ma l'hai vista c'è c'era un foglio di carta credo mamma mia ragazzi incredibile bellissimissimissima sta cosa è tornato il tappo maledetto bravo mamma mia ti riporto dopo lo sai che ti riporto questi cacchi di tappi ogni curva che gara che gara bravo bravo bravissimo ce l'hai ancora lì ce l'hai ancora lì ho fatto ho fatto ha fatto le stesse errore che ho fatto nella curva prima due giri cazzo e sapevo io sapevo io cazzo spesso mb 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 aspetta che ero lo freno dai ah? ora lo freno ah mi freni a me se sono già dentro mi devi lasciare lo spazio però e ti ho lasciato lo spazio infatti mi sei venuto addosso ha ragione Ricky allora lo fai apposta minchia come taglia mamma mia entra nei box ultimo giro ultimo giro minchia minchia manetti gli abbiamo concesso tre decimi o giratevi entrambi oh l'ho persa la prima curva impossibile poi recuperare bravo John grande eh mamma mia brava brava ragazzi che cosa vi aspetta vi aspetta tanto divertimento rispetto in pista la possibilità di conoscere le persone fantastiche tanto divertimento quindi cosa state aspettando veniteci a raggiungere trovate qui sotto il link per il nostro canale telegram io come al solito se il video vi è piaciuto pollice in su non esitate a lasciare un commento ed ad iscrivervi al canale noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao